Oh, Maruki! Entra pure! Ehm, io... Ah, tu devi essere Kumura-san del terzo anno, giusto? È un piacere vederti, prego, accomodati. Grazie. Va tutto bene? Ah, sì, sì! Mi scusi, sono qui per mia volontà, ma non sono brava a spiegare cosa ho in testa. Oh, nessun problema. Nemmeno io sono molto bravo a conservare... a conversare con la gente. Oh. Ma allora che cazzo fa il consulente, mi scusi? Oh, forse non avrei dovuto dirlo. Ti va uno snack? Non serve fare complimenti. Grazie, sto bene così, però. Ah. Mmm. Ehm. Ehm. Le sembrerò strana, eh? Sono venuta qui per una consulenza, ma non riesco a spiaccicare una parola. Maia. Ah, non si è affatto strana. Prenditi il tuo tempo, andremo al ritmo che ti è più congeniale. E se alla fine della seduta non dovessi sentirti ancora a tuo agio, beh, goditi un tè e torna a casa. Adoro l'ora del tè. Forse, guardando la cosa da questa prospettiva, riuscirò a rilassarmi. Assolutamente. È difficile sciogliere lo stress se si entra qui dentro pensando, devo dire qualcosa, subito. Mentre considerai la seduta come un modo per evadere e rilassarsi con un tè, dovrebbe rasserenarti. Rilassarmi con un tè. Lo faccio spesso, anche se da sola. Trovi la cosa più rilassante. La gente che mi circonda non è esattamente quella con cui vorrei godermi un tè. E persino la mia famiglia è sempre stata completamente assorbita dal lavoro. Perciò, anche le ore dei pasti le passavi da sola. Sì, praticamente mangiavamo assieme solo durante le cene ingessate dagli eventi di lavoro. Capisco. Non sono mai stato un evento esclusivo, ma, beh, ti facevano sentire sola. Sola? Sì, credo. Se avessi potuto scegliere, avrei soltanto voluto passare più tempo con la mia famiglia. Perché non ci fermiamo qui per oggi? Sentiti libera di ripassare ogni volta che desideri. Oh, sì, chiedo scusa. A quanto pare ho esteso oltremodo l'ora del tè. Non c'è alcun problema, anzi, mi ha fatto piacere. La prossima volta avrò snack adatti. Che palle, smetta di parlare di snack, per favore. Parla solo di quelli, Maruki. Ah, ah già, dobbiamo andare da Futaba. Futaba Chami mi ha detto che a breve ci vediamo. Visto che però c'è ancora tempo, mi prenderò cura dei miei fiori prima di venire. Ci si vede. Beh, le piante vanno innaffiate. Facciamo così, Phoenix. Vai ad aiutare Aru, avviso io gli altri. Ok, andiamo ad aiutare Aru. Ah, che guaio. Ti serve aiuto? Eh? Ah, Phoenix-kun. Sei venuta ad aiutarmi? Mi... Mi hai sentito prima, vero? Che cosa è successo? Nel caso te lo chiedessi, non è il giardino a preoccuparmi? Ah beh, certo, me lo immaginavo. È che, ultimamente, mi è successo di tutto. Ovviamente. Se vuoi, puoi confidarti. Beh, forse posso confidarti una cosa. Mi farebbe piacere se ci fosse anche qualcun altro al corrente di ciò che sto passando. Dimmi. La fonte delle mie preoccupazioni è l'azienda di mio padre. Gestire gli strascichi non è stato facile. La morte di mio padre è stata improvvisa. Non aveva fatto testamento e ora l'azienda è mia. All'improvviso sono diventata la maggiore azionista di un'azienda con oltre mille dipendenti. Ma io non so nulla di come si dirige un'azienda o si gestiscono i dei fondi. Sembra tosta. Infatti, nonostante io sia la figlia del presidente, non pensavo che mi sarei mai occupata dell'azienda. Per questo, di recente, ho incontrato tutti i dirigenti e gli avvocati che mio padre aveva assunto. Da loro ricevo consigli riguardo tutto ciò su cui nutro dei dubbi. Beni patrimoniali, azioni. È chiaro che alcuni vogliono solo guadagnarsi i miei favori. Non so di chi posso fidarmi. Molti cercano di confortarmi dicendomi cose tipo Non preoccuparti, ci penso io, ma... Ho la sensazione che siano gentili solo perché sperano così di poter mettere le mani sui miei soldi. Non avrei mai creduto di poter essere così diffidente. Ebbè, dopo tutto quello che ti è successo... Scusa se ti annoio con questo mio sfogo. Tuttavia, credo sia servito a calmarmi almeno un po'. Finora avevo parlato solo con i miei dipendenti dell'azienda. Forse ciò di cui avevo bisogno era qualcuno della mia età, con un punto di vista simile al mio. Ehm, se non ti dispiace, potremmo parlare ancora qualche volta? Certo. Abbiamo stretto un patto. In cambio, io... Cosa potrei ricambiare? Non possiedo talenti speciali. Non è vero. Che dici se... Al giardinaggio. In quello, sono piuttosto esperta. Qualche anno fa, se sono persino riuscita a far crescere un frutto tropicale sul balcone qua in casa mia. Quando sono sola e voglio liberare la mente per un po', mi dedico alle piante. Ah già, ho conservato delle verdure nel frigorifero dell'aula di economia domestica. Non vai di fretta, vero? Ti dispiacerebbe aspettare qui un momento. E tanto dobbiamo andare insieme al ritrovo, no? Le ho coltivate in questi stessi vasi e le ho raccolte non molto tempo fa. Non sono molto uniformi, quanto a forma e colore, ma... Voglio assaggiarle. Ti piacciono le verdure, Phoenix-kun? Buona sapersi. A dire la verità, però, avrei un favore da chiederti. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensa Sakura-san delle mie verdure. Pensi che potrei portare il prossimo raccolto al tuo caffè? È un'ottima idea. Grazie, sono certa che Sakura-san mi dirà esattamente cosa ne pensa. Mi impegnerò finché il prossimo raccolto sia particolarmente buono. Perfetto. Bene allora, andiamo al ritrovo. Mi fa piacere che Haru, alla fine, voglia ricambiare in qualche modo. Complimenti, siete sopravvissuti agli esami intermedi. Ah, stavolta sono davvero fottuto. Non riuscivo a concentrarmi. E cosa cambia dal solito? Raccoglie le opinioni di tutti e agire di conseguenza. Per far sì che le cose prendano il giusto corso, io... Ah, ancora! Mi spacca i timpani! Piuttosto, di cosa volevi parlare? L'altro giorno hai detto che ti era venuto in mente qualcosa. Sei riuscita a capire cosa? Il Mad Jed che ho bannato. Non era quello vero. Ah? Ma non eri tu quella vera? Ah, ehm... Il tizio che mi ha rubato il nome, Mad Jed, non è quello dell'altra volta. Che intendi dire? Il codice scritto da quel tizio l'altro giorno è diverso da qualsiasi Mad Jed. L'altro giorno, sono passati mesi. E questo vuol dire... Il codice è come un'impronta digitale. Puoi mascherarla, ma qualcosa di tuo rimane. Quello dell'altro giorno era una copia in colla senza sostanza. Nessuna skill di sorta. Ma Mad Jed non era formato da varie persone in giro per il mondo. Magari è stato fatto da un membro recente. Come posso dirlo? Chi ha scritto quel codice non si interessa di cracking. Per nulla. Di certo non era un membro di ufficiale di Mad Jed. Per cui qualcuno si è servito del nome Mad Jed per provocare i ladri fantasma. Ma perché? Magari per divertimento. È successo quando abbiamo iniziato a diventare famosi. Forse volevano salire sul carro del vincitore. Un secondo. E se forse il contrario? Eh? Se avessero usato il nome di Mad Jed per far diventare i famosi ladri fantasma. Cosa? Ma non ha senso! La pensa come Makoto a dire il vero. E perché? Codice uguale impronta digitale, ricordi? Le ho trovate in un posto completamente diverso. Dove? Il Phantom Sight. Ci sono tracce lasciate da qualcuno che l'ha violata dall'esterno. Davvero? Prima delle vacanze estive il contatore degli accessi è stato alzato molto sopra l'effettivo. Così anche le classifiche. In particolare per far arrivare in cima il presidio Kumura. Per cui chi ha provocato il gruppo e chi ha modificato il sito sono la stessa persona. Credo di cominciare a capire. Sia la provocazione di Mad Jed che le modifiche al sito hanno attirato l'attenzione su di noi. Inoltre abbiamo preso di mira a Kumura per via dell'opinione pubblica delle classifiche. Tempismo e bersaglio perfetti. Se ne sono stati decisi a priori... Il quadro sarebbe completo. Per cui questo criminale voleva sin da subito darci la colpa. Non ci posso credere. Sono solo ipotesi però. Ci mancano delle prove. Ma se le vostre deduzioni fossero corrette significherebbe che abbiamo recitato il copione di... Per circa due mesi. Wow. Ci stiamo immaginando tutto. Dai parliamo di Mad Jed e delle classifiche. Tutti ne parlavano. Se era una cosa predefinita... Che razza di persona è il nostro nemico? Non lo so. Non ha senso agitarsi per una semplice speculazione. Senza contare che verremo falsamente accusati di omicidio stavolta. Dobbiamo reagire. Ma non sappiamo neppure contro chi stiamo lottando. Ehi, e se stessimo cadendo in trappola in questo momento? Ancora non lo sappiamo. In realtà non lo sappiamo. Pensare di aver capito tutto è troppo pericoloso. Dobbiamo reagire. Anche se sul... Dobbiamo reagire. Anche se vuol dire lottare contro il piano di un nemico calcolatore. Dobbiamo trovare degli indizi. A ogni costo. Esatto. Dobbiamo farlo. Ah, chissà chi sarà il nostro nemico, eh? Io? Mi è stato detto che ha suggerito lei questo cambio, signore. Perché scegliere qualcuno di inesperto come me? Anche se il caso del preside della Shujin era considerato suicidio, lei ha voluto riaprirlo. E ha dimostrato il collegamento con i ladri fantasma. Questo è il motivo principale. Sono onorata, signore. Il problema dei ladri fantasma è ora emergenza nazionale. Siamo procuratori, esecutori della legge. Il popolo si aspetta molto da noi. Ha carta bianca su personale e operazioni, con giurisdizione anche della polizia. Wow, wow. Vorrei che fosse lei a gestire l'operazione. Oh, cacchio. È tipo una promozione questa. Deve ancora rispondermi. Accetterà l'incarico di distruggere i ladri fantasma? Ci metterò tutta me stessa. Dovremmo pensare a una promozione nel caso lei dovesse riuscirci. Non per aumentare la pressione, ma presumo che le sue possibilità di successo siano elevate. Ovviamente il fallimento non è accettabile, capisce? Certamente, non deluderò le sue aspettative, costi quel che costi. Allora abbiamo finito, mi aspetto ottime cose da lei. Certo, signore. Sono a casa. Ciao, sorella. Ti scaldo la cena? No, è tutto ok. Vuoi un bagno? No, sono passata da casa solo per prendere un cambio. Passi la notte al lavoro. Ho ricevuto un incarico molto importante. Sembra distrutta però. Non sei stanca. Da adulti ci sono cose per le quali non è tollerato il fallimento. Se non ho successo stavolta, la mia carriera è finita. Però, se collassi per la stanchezza... È la mia unica possibilità per ottenere una promozione. Ho sentito che gli investigatori sono venuti a scuola. Deve essere dura concentrarsi per te. Ma non ti preoccupare, fra poco sarà tutto finito. In che senso? Catturerò io stessa, i ladri fantasma. Oh cazzo, questo incarico importante di cui parlavi? Non pensarci. Vado a prendere la mia roba. Oh mio Dio. Mia sorella è sulle tracce dei ladri fantasma. E il suo bersaglio è la Shujin. Non va bene, devo dirlo agli altri. Mia sorella sta cercando di fotterci, porca troia. Gente, la situazione è peggiorata. Rimaniamo calmi. È successo qualcosa? Mia sorella ha detto che le hanno assegnato la missione importante sui ladri fantasma. Ciò significa che... Sì, che ormai l'UIS si è messo in moto. Non è un bene. Ma non stavano già indagando su di noi? Lo stava facendo la polizia in segreto. Questa è un'operazione molto più seria. Ferma, che roba l'è? Che roba è questa UIS? Unità investigativa speciale. Un corpo d'elite che si occupa di casi come scandali governativi. Li ho visti sui notiziari. Si sente spesso parlare di loro. E soprattutto in 50 anni non hanno lasciato un caso in sospeso. Se ti puntano, sei fregato. Sono la migliore squadra investigativa di tutto il Giappone. Ci arresteranno. Ma una reazione del genere non vi sembra un po' eccessiva? Giusto o sbagliato che sia. Ormai siamo troppo famosi. Siamo in uno stato di diritto. La legge non può più continuare a ignorarci. Siamo i ladri fantasma. Ma questo è triste. Probabilmente avranno fatto la profilazione abbastanza precisa dei sospetti. Ehi, non esagerare adesso. Non dobbiamo preoccuparci. Non hanno alcuna prova. Sì, probabilmente le staranno cercando in questo momento. Non possono trovare l'unla comunque. È solo una questione di tempo. Dobbiamo sbrigarci e fare qualcosa al riguardo. Andrà tutto bene. Finché non scoprono il metaverso non possono ottenere informazioni su di noi. Già, questo è vero. Purtroppo c'è persone come Akechi che hanno scoperto il metaverso. Tempismo davvero troppo comodo per azione penale. Eh già. Cosa possiamo fare stasera, Morgana? Tu che dici? Che ci sia qualcuno dietro a tutto questo. Già, c'è assolutamente qualcuno. Vediamo se possiamo fare del carry. Non penso però. A quanto pare abbiamo finito gli ingredienti. Eh, ti pareva. E allora, beh, facciamo un altro ordine da fare i loschi. Visto che ci hanno aumentato la nostra quantità di oggetti. Dobbiamo arrivare a spendere 100.000 yen. 100.000 perché così sblocchiamo ancora una volta altri oggetti. E lì sarà l'ultima volta. E niente, in realtà, tutto quello che possiamo comprare sono queste robe qui. E' l'unica cosa che mi serve e che non costa così tanto alla fine. Aggiungiamo anche questi giusto per arrotondare un pochino. E niente più. Vediamo a quanto siamo arrivati. Buone notizie, signor Joker. Hai speso oltre 100.000 yen. Hai ottenuto il grado caos. Ora puoi acquistare tutti i prodotti di livello caos. Hai raggiunto il grado massimo. Puoi acquistare qualsiasi nostro articolo. Grazie infinite. Il tuo ordine arriverà presto. Comprendiamo il tuo entusiasmo, ma ti chiediamo di pazientare. Torna presto a trovarci. Sì, lo farò, ma non c'è molto che mi serva. E ora facciamo altri strumenti, visto che ci siamo. Ok, cosa possiamo fare? Allora, visto che ci siamo, io farei magari qualche bomba allegra. Giusto per averne qualcuna in più. Qualche bomba maledetta. Ma sì, giusto per sicurezza faccio altri Go Home M. L'ho capito adesso il nome, Go Home. Oddio, sono un cretino. E tra l'altro ne abbiamo preso un altro. L'ho capito adesso, Go Home. Cristo. Sono veramente scemo. Vabbè, ne abbiamo ottenuto uno in più. Sempre meglio di nulla, no? E abbiamo aumentato anche le nostre statistiche. Ok, andiamo a letto. Va bene, andiamo a dormire. Go Home. Ma Cristo, com'è possibile che non ci sono arrivato prima? Il 29%. Non hanno ancora trovato il ladri fantasma. Il governo e la polizia sono completamente inutili. Possiamo... Possibile che non stiano facendo niente. Vorrei solo che non spendessero i soldi nelle nostre tasse per scaldare le poltrone. Un misterioso gruppo di assassini, un governo inutile. Insomma, dove andremo a finire? Ci stanno infangando tutti. Che schifo. Queste persone sono davvero ignobili. La polizia è di nuovo qui. Quante volte l'abbiamo vista ormai? La nostra scuola è diventata famosa per i motivi sbagliati. Le hanno revocato lo status di studentessa modello. Questa scuola è davvero messa male. Chissà se i colpoevoli vengono davvero in questa scuola. Non lo so. Non credo. Secondo me no, eh. Hanno tolto lo status a Yushizawa? Incredibile. Oggi erano di nuovo qui, vero? Già, chi pensano di essere quei maledetti poliziotti. Non possono squadrarci così. Forse le voci sono vere. Un ladro fantasma nella nostra scuola. Statevi zitti, stronzi. Ok, ascoltate. C'è la polizia a scuola, perciò cercate di non intralciarla. Oh, e... Per svariati motivi, il festival scolastico è stato rimandato al 25. Qualcuno voleva cancellarlo, ma non ci è sembrato giusto. I preparativi saranno certamente tosti, ma non c'è bisogno che facciateli impossibile. Eh? Un giorno feriale? Per quale motivo? Immagino che, visti tutti i casini, con Kauo Shida e il preside non ci potesse evitare. Eh beh, sì. Immagino proprio di sì. Ah, l'ora di pranzo. Com'è che noi non abbiamo mai da mangiare? A quanto pare la polizia ha intenzione di interrogare tutti gli studenti della scuola. Eh, la madonna! Veramente! La polizia e la Shujin, alla mia scuola, non sono venuti. Sembra che stiano chiamando gli studenti uno per volta dalle aule per parlare con loro. Un momento, questo vuol dire che chiameranno anche noi! Quelli del secondo anno cominceranno nel pomeriggio. Assicuratevi di prepararvi mentalmente. Stanno sicuramente cercando il colpevole, giusto? Chi lo sa. Fate attenzione ragazzi, probabilmente dovreste cercare di parlare il meno possibile. Se provate a raccontare bugie se ne accorgeranno, lo so. In ogni caso, non dite niente se non lo stretto necessario. E che cacchio? Questi ci vogliono arrestare, miau! Bene, i prossimi sono Takamaki-san e Starkun. Voi due andate assieme. Eh? Perché insieme? Probabilmente perché faranno aspettare uno fuori dei due. Finora hanno fatto così. Ah, è giusto. Sono le indicazioni che ci hanno dato gli investigatori. Dite lo stretto necessario e cercate di finire il prima possibile. Ok. Madonna mia. Buongiorno. Accomodati. Ho una strana sensazione di... Deja vu. Anche se questo è successo prima. Grazie per il tuo tempo. Faremo in fretta. Vediamo. Phoenix Star. Ah, sei lo studente in libertà vigilata. Qui dice che hai avuto uno scontro con il prof Kamoshida. Sì, esatto. Anche se non sembra, sei una testa calda. Il tuo gruppo di amici è curioso. Yusuke Hitagawa è a Rukumura, eh? Più amici ci sono, meglio è, vero? Scusa se ti abbiamo rubato del tempo. Possiamo andare... Puoi andare ora. Oh, quasi dimenticavo. Devo chiederti un'ultima cosa. Pensi che i ladri fantasma abbiano qualcosa a che fare con questa scuola? Spero di no. Non ti preoccupare. Siamo qui per tenervi al sicuro, ok? Grazie del tuo tempo. Le tue risposte saranno ottimo materiale di riferimento. La prossima è Takamaki-san. Potresti chiederle di entrare? Va bene. È sicuramente lui. Lui è il colpevole. Arrestiamolo, siamo già qui. No, ti prego. Ero così nervosa che ho persino balbettato. Pensavo di essermi abituato agli interrogatori. Pare che ci abbiano fatto le stesse domande. È così che ti fregano. Lo fanno apposta. Aspettano che qualcuno si lasci scappare qualcosa. Spero che tu non l'abbia fatto. Sono a posto, penso. Se avessero visto quanto mi sudavano le mani, però, mi avrebbero fregato. Non immaginavo che avrebbero fatto anche il mio nome. Evidentemente non possiamo sottovalutare la polizia. Ma non avete trovato inquietante quell'investigatore? Mi sembrava normale. Ho visto di peggio, fidati nel futuro. Non a me. Sembrava qualcuno abituato a trattare con i pericolosi criminali. Chiedo scusa per tutto questo. È mia sorella che... Non è vero, Mako-chan. E l'avevo pure detto che sarebbe successo. Ma adesso che ci siamo, non so cosa fare. Dobbiamo fare in modo di non attirare l'attenzione e lavorare per riabilitare il nostro nome, ok? Giusto. Non è colpa tua, Makoto. Sono curiosa di vedere quanto a fondo si spingerà questa indagine. Sono anche preoccupata per la polizia, ma ora come ora, chiunque in città potrebbe fare la spia. Eravamo così famosi. Haru, potresti per favore cercare tra le cose di tuo padre qualche indizio sul colpevole? So, so che potrebbe essere dura per te. Non ci sono problemi. Non è il momento di distogliere lo sguardo. Per quanto riguarda voi, state attenti a cosa fate quando siete a scuola. Ho deciso di includere voi tre nel secondo anno nel gruppo di organizzazione del festival. E perché? Ci permetterà di riunirci senza destare sospetti e non vedersi più produrrebbe l'effetto opposto. Ah, e va bene. Sono d'accordo. Più tempo rimango senza far niente, più tempo passo a preoccuparmi. A prescindere da quello che succederà, non voglio rimpiangere le mie decisioni. Non portare sfiga. Non sarebbe motivo di sorpresa se venissero a farci domande direttamente a casa nostra. In fondo sono venuti nella vostra scuola, dovrò muovermi di conseguenza. Per ora l'opinione pubblica è rimasta sulle difensive, ma così non faremo alcun progresso. Comunque cerchiamo almeno di capire chi è il vero colpevole, ok? Certamente. Sembra che sia lei il capo. Cioè, sembra che rispondiamo a quello che dica lei ormai. Vabbè, mi sta bene, per carità. È un disastro, qualcuno ci ha incastrati, cazzo. Eh, lo so Morgana, è dura la situazione ora. Ingredienti per il curry oggi su giro? Ce ne sono? Ehi, ci sono un po' di ingredienti per il curry. Vuoi preparare il curry? Facciamo il curry. Oh, sto preparando la cena. Sto tornando a casa, ma attenzione ai fornelli, ok? Sì, signore. Vediamo cosa aggiungeremo oggi. Cos'era quel liquido rosso che hai aggiunto? Salsa piccante? Vino rosso? Questa bevanda alcolica può essere usata come ingrediente segreto del curry. Aggiunge ricchezza, acidità e ammorbidisce la carne. La cottura dell'alcol rilascia antiossidanti che proteggono la pelle e riducono i segni dell'invecchiamento. Vino rosso, eh? Dovrebbe dare al curry un sapore elegante. Mescoli tutto con tale slancio. Lo so, guarda che bel faccino che c'ho. Come potrebbe mai una donna dirmi di no? Wow, il curry è un profumo squisito. Sarà un successone. Lo spero. E' tutto finito. Era proprio buono. Sembri proprio fiero di te. Eh già, curry del maestro numero due. Sarà meglio andare a dormire. Beh, direi che con il curry siamo a posto, no? Non vedo l'ora che Haru ci dia delle piante. Sì, ho un altro suggerimento. Invocare l'arresto del ladri fantasma e mobilitare la polizia. Il resto procederà come il suo programma. Sono comunque stupito dalla sua crudeltà nei suoi metodi. Chiunque sia questa persona che sta tramando dietro le quinte è proprio un cattivone. Domani è domenica, dai, forza, ce la possiamo fare. Chissà che tipo di persone sono i colpevoli. Saranno degli idioti senza alcun senso di giustizia. Fino a prima, gli eroi della giustizia, brave persone grandi, i ladri fantasma, grandi! E poi siete delle merde. Ma non li hanno arrestati, non possono arrestarli e farla finita. Se ne stanno occupando l'unità investigativa speciale, li cattureranno presto. Ma che tipo di persone sono? Vorrei proprio vederli in faccia. Prima per stringergli la mano e ora per sputarci in faccia. La gente è bellissima. Quando hanno interrogato me mi sono sentito gelare. Scommetto di essere finito tra i sospettati. Per quanto tempo resteranno ancora qui? Dovremmo cominciare a prepararci per il festival scolastico. A proposito, come mai la scuola ha deciso di tenere il festival più tardi rispetto agli altri anni? Ma poi, perché cambiare data? Solo perché tutti i telegiornali parlano della nostra scuola. Lo spostamento a martedì prossimo comporta solo lavoro in più per tutti noi. Col fatto che si terrà in un giorno feriale, non posso neanche invitare i nostri amici. E tutti quelli che abbiamo già invitato si troveranno in difficoltà. E la festa dopo il festival? Ci sarà abbastanza gente all'evento speciale di condivisione. Con il morale così basso, sarà un festival molto strano. Eh già, lo penso anch'io. Oh, un'interrogazione. A proposito di media fastidiosi, stiamo ricevendo un sacco di chiamate in sala docenti. Come mai mio figlio sta in classe con i ladri fantasma, eh? Ci state facendo preoccupare? L'assurdo è che ci chiedono chi sono questi ladri fantasma. Vorremmo capirlo pure noi. Non abbiamo idea dei metodi che utilizzano. Uccidere qualcuno senza interazioni dirette resenta la magia. A proposito, sapete che anche nella magia c'è della matematica? Sì, il quadrato magico. Il quadrato in cui sommando i numeri di ogni riga, colonne e diagonali, il totale non cambia. Star Sun, dà un'occhiata. Mi dica? Ora, dimmi il totale per ogni colonna del quadrato magico. Dovrebbe essere 15. E' esatto. E' facile quando si conoscono i numeri da inserire nelle caselle. In un quadrato 3x3 c'è solo uno schema, mentre uno 4x4 ha ben 880 possibilità. In uno 5x5 ne hanno addirittura 200 milioni. Riuscite a crederci? Oh, è incredibile, è stato bravo. Ehi, bravo, we are a Janeika. E' un criminale, ma magari in realtà studia nel tempo libero. Voi preferireste cercare di trovare i ladri fantasma o risolve 200 milioni di quadrati magici? Io sceglierei i quadrati magici a mani basse. Entrambi sono magici, ma i quadrati sono risolvibili. E la matematica non uccide nessuno. Lo dici tu. E' avvilente che tutti siano a caccia dei un colpevole. Che brutte persone. Che poi, sicuramente, piuttosto che cercare 200 milioni di soluzioni, si ammazzerebbe prima. Sicuro. Allora, cosa dobbiamo fare come comitato di organizzazione del festival della scuola? Mi servirà un po' di aiuto con i questionari? Quali questionari? Quelli sulle persone che vogliamo invitare come ospite d'onore. Mmm, io penso di sapere già chi inviteranno. Ah, già, quella cosa che fanno tutti gli anni. Intendi quegli ospiti sfigati che vengono a tenere degli incontri, giusto? Le date del festival sono cambiate a causa della situazione attuale. Dobbiamo sbrigarci a conteggiare i voti. Alla fine delle elezioni, venite nell'aula del consiglio studentesco. Ah, che noia. Non fare così. In questo modo possiamo incontrarci senza dare nell'occhio. Per ora facciamo quello che possiamo. Io lavorerò duramente da casa. Ma quello lo fai sempre. Posso cercare informazioni. Allora, hai trovato qualcosa, Aru? A questo proposito, niente, eh? Mi spiace. Se faccio domande troppo specifiche sembrerò sospetta. Non preoccuparti, ce la farò in qualche modo. Contiamo su di te. Io non posso venire, ma scrivetemi se succede qualcosa. Lascerò a voi questa faccenda. Scusate, ma in questa situazione non posso essere molto d'aiuto. Tranquillo, Yusuke. Va bene così. Ed eccoci tutti qua. Ma Ryuji che fa? Fa un culo. Non abbiamo tempo da perdere, incazzate. Non serve che lo ripeti. Dobbiamo allontanare ogni sospetto dal nostro gruppo. Ricordi? Goro Akechi. Anche questo Akechi. È la stessa cosa anche qui. L'anonimato trasforma tutti in leoni da tastiera. Come se non ci avessero mai accettati. Sarebbe carino se contribuissi anche tu, Ryuji-kun. Sei venuto a darci una mano a controllarle, no? Leader, non potresti diglielo anche tu? È una cosa seria, rilassati pure, rilassati pure, Ryuji. Sono stanco. È una cosa seria, Ryuji. Stiamo raccogliendo informazioni, cercando in rete. Cosa è così? Immagino si possa vederla così. Ehi, guardate qui, non è bene. Profilo criminale? I furti compiuti dai ladri fantasma sono una copertura. Il loro vero scopo è l'omicidio. Ogni cuore risvegliato prima di Okumura era solo un allenamento. Ora ci accusano pure di essere un branco di assassini. Non ha un cazzo di senso. Leader, digli di fare qualcosa. Abbiamo i risultati. Il primo posto è Goro Akechi. Cosa? Akechi? Perché sei sorpreso? Abbiamo letto il suo nome fino adesso. Davvero? Non un cantante, un idol. La sua popolarità è schizzata alle stelle, grazie a noi. Siamo noi a contare i risultati. Non possiamo inventarceli. Non dobbiamo prendere proprio lui. La gente lo capirebbe. Ha praticamente stravinto. Mi aspettavo dei voti per lui, ma non così tanti. Sarebbe meglio evitare di darci la zappa sui piedi. Mi serve un po' di tempo per pensare a chi chiedere. Il che mi fa venire in mente. Come sta Futaba-chan? Se non sbaglio stava indagando su qualcosa da sola. Ti ha detto nulla? Lasciamola lavorare. Non è che ci arresteranno perché la polizia la rintraccia, vero? Ci mancherebbe solo questa. Anche un solo indizio sarebbe una manna dal cielo per noi. Lasciamola indagare. Spero che trovi qualcosa. Eh, chi lo sa. Magari adesso vediamo la sua propria sospettiva. E si è fatta sera. E a quanto pare non ha trovato nulla. Kaettaka. La polizia accusa il ladri fantasma di aver commesso i crimini. Questo è il commento di Gorakechi. Ho sempre sostenuto tra le critiche che i ladri fantasma non agissero secondo giustizia. Credo però che la recente serie di morti sospette non sia collegata alle loro azioni. Cosa? Ho sentito bene. Ma Kachisan, sei stato il primo a mettersi in guardia sui ladri fantasma. Rimango comunque un gruppo pericoloso, sia chiaro. Detto questo, vorrei sottolineare che collegarli immediatamente a questo caso si è affrettato. Ci sono ancora domande senza risposta. Sento che c'è qualcosa di più sotto. Dopo questa conferenza, Kachisan ha annunciato che limiterà la sua presenza in pubblico e... Chissà perché questo cambiamento è improvviso. Sono totalmente bloccata con l'indagine su Kumura. Sul serio? Per solo tu stai avendo problemi? Cosa dobbiamo fare? Incontriamoci il prima possibile per discutere le nostre opzioni. Domani? Prima è, meglio è, dico bene. Anche se io stessa non ho ancora concluso nulla. Dicono che due teste ragionano meglio di una. Chissà cosa potranno fare otto teste. È un ottimo modo per considerare la situazione. È proprio un'idea dai nari. Ok, ora cerchiamo di fare tutto il possibile. Anche se dovesse portarci a correre dei rischi. Visto che dove siamo arrivati non possiamo essere troppo schizzinosi riguardo alla nostra metodologia. Perché guardi il telefono in quel modo? Oh, sei appena stato mollato per caso. Certo che no. Ehi, quanta vemenza. Era solo una battuta. Tra l'altro, non avete causato problemi, vero? Ho sentito che la polizia è venuta a scuola da voi. Non riguarda me. Fintanto che non rimani coinvolto. E va bene. A volte mi dispiace come rispondiamo a suo giro perché sembra che gli rispondiamo scazzati quando in realtà non è vero. Aiutami. Se non c'è nessun altro potrei. C'è Oya. Oh, giusto. C'è Oya. Dobbiamo andare da Oya. Perché? Perché ci sblocca la sua richiesta di memento. Ma ci Aya, che fine ha fatto? Maledetta. Viene, si prende tutti i miei soldi e poi sparisce per un bel po'. Oh, guarda che bello. Guarda che bello che ci sono le decorazioni di Halloween. Oh. Questi sono dettagli bellissimi. È arrivato ottobre e hanno iniziato a riempire tutta la città di cose di Halloween. Questo è bello. Ah, certo che vieni qui spesso. Non mi importa. Basta che ti comporti bene, ok? Ehi, Oya. Tutto bene? Posso parlarti un attimo a proposito di Caio? Sento che presto il mio legame si rafforzerà. Che vuoi fare? Vuoi passare del tempo con Aya? Perché no? Ok, adesso siediti. È inutile. Grazie al capo e all'editore, tutti i contatti che sapevano dove si trova Caio sono spariti. Beh, di qualcosa. Sembri stanca. Si capisce? Beh, credo che sia palese. Ah, tutte queste notti in bianco mi stanno uccidendo. Di questo passo il lavoro ti ucciderà. Stai rispettando la quota, vero? Certo. Se mostrerò la minima debolezza mi licenzieranno. Il capo non vede l'ora che faccia qualche casino, ma non gli darò questa soddisfazione. È una specie di tiranno. Non mi dire. È una corsa contro il tempo. Devo trovare Caio prima di cedere. Eh, non va bene. Non ti conviene occuparti prima del capo per poi lavorare sul caso di Caio-chan? Non posso farci nulla. È marcio fino al midollo. E nonostante tutto, i piani alti lo adorano. Non so a chi rivolgermi. È finita. Già, non sembra il tipo di persona che cambia idea. Ma di questo passo non potrei continuare le tue indagini. Che ne pensi, Pulcino? Se la situazione non cambierà, Oye sarà schiacciata dal peso della sua quota. Devo aiutarla a occuparmi del caso. Ah, finirà per morire. Dimmi qualcosa di lui. Perché? Vuoi scoprire i suoi punti deboli? Si chiama Shinpei Onjo. So che è un bravo marito e che si occupa di economia e politica estera. Forse mi sto preoccupando un po' troppo, ma ti ha visto in faccia, lo sai? Non cercare di fare l'eroe. Oh, lo dice per il tuo bene. Hai capito, Pulcino? Ah, mi chiedo dove sia Caio. Scusa, ma oggi non sono in veda di ricevere informazioni. Grazie di essere venuto fin qui, però. Ci si vede. Vabbè, devo liberare Oye dalle richieste oppressive. E una nuova richiesta è stata aggiunta. Ah, 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 ah. Perfetto, Oya. Mi occuperò io del tuo caso. Vai tranquilla. Ed è domenica. Scusatemi, non dovevo. Oh, guarda che bello. La faccina che c'è sotto il Sampo Road. Che prima era una faccina normale, adesso è un vampiro. Ma che cosa crede di fare quel detective? Vuole solo diventare più famoso. Vuole mettersi in mostra. Arrestate i ladri fantasma e facciamola finita. Non lo so, ma sembra che ne sappia qualcosa. Scommetto che ha scoperto qualcosa di compromettente. Hmm, chissà, forse è vero, forse no. Chi può dirlo? Oh, si sono messi tutta la roba invernale. Makoto, Nijima-san, ti ha detto qualcosa sull'indagine? Ah, già. Un attimo non ho capito il senso della frase di Yusuke, ma intendeva... Makoto, tua sorella ti ha detto qualcosa? A dire il vero, mia sorella ha smesso di parlare di lavoro davanti a me. Forse potrei avere fatto qualcosa, qualche passo falso. Nonostante questo, ho riflettuto su chi invitare al festival scolastico. Sto pensando di chiedere ad Akechi-kun. Come? Sul serio? Non eri tu quella che diceva di non tirarci la zappa sui piedi? So che è pericoloso, ma senza una fonte di informazioni affidabile, non saremo in grado di competere con la polizia. E non posso più attingere alle informazioni da mia sorella. Aspetta, è per via dei contatti tra Akechi-kun e la polizia. Vuoi sfruttarlo come fonte di informazioni affidabile? Una massa molto audace, mi stupisce venga da te Makoto. Ieri avete visto la sua conferenza stampa. Uno dei suoi commenti a difesa dei ladri fantasma è stato c'è qualcosa di più sotto. Mmm, credo che l'abbia detto ben sapendo che i ladri fantasma l'avrebbero sentito. Eppure, vi saranno molti altri studenti al festival scolastico. Sicura possa aver successo. È una scommessa. E francamente, le possibilità sono scarse. Ma non possiamo più permetterci di esitare. Cosa ne pensi? Invitiamo Akechi-kun. Potrebbe funzionare. Molto bene. Va bene a tutti? Ryuji penso che sia quello meno convinto, ma... Per me va bene. Lui ha di certe informazioni più affidabili di quelle che ho trovato io. Sarebbe più rassicurante se fosse un vero e proprio alleato. E non una mera fonte di informazioni. Un attimo, come facciamo a contattarlo? Dubito che scriverà il suo indirizzo mail sulle porte dei bagni. Sulle porti dei bagni. Uno stronzo. In realtà ho il suo numero. Sul serio? Ti spiacerebbe passarmelo? Grazie. Certo, tieni. Te lo mando. Ecco qua. Lo contatto subito. Non sono proprio convinto su sta cosa di Akechi. Non possiamo permetterci i rancori. Pensa a lui come una fonte di informazioni e basta. Mi ha già risposto. Dice, fatemi ci pensare. Un attimo. Non aveva detto che non avrebbe più fatto apparizioni pubbliche. Da ciò probabilmente deriva la sua esitazione. Come facciamo se rifiuta? Insisterò. Sarà frustrante. Ma ora come ora abbiamo solo lui. Ci serve che lo faccia a tutti i costi. Contiamo su di te, Makoto. E si fece sera. Chi avrebbe immaginato che ci saremmo affidati ad Akechi? Beh, io... Sì. Io esco con Akechi. Ehi, non dimenticarti di quella persona che ci hai lasciato qui, eh? Ascolta attentamente. Oggi devi assolutamente venire. In caso contrario perderai quella persona. Ah, bene. Visto? Ora sappiamo cosa succede. Ehi, è arrivato un pacco per te. Sembrava un po' stranito la voce di... Di come si chiama? Di suo giro. Ehi, questo pacco... Sembra una bomba. Beh, intanto mi prendo tutto quello che ho ordinato. Ecco fatto. Viene da fare i loschi. Beh, è la prima volta che comunque le due gemelline mi chiamano per dirmi del... Come si chiama? Della persona. Ma immagino anche il perché. Perché giustamente in tutte queste serate non avevamo le serate libere per poter uscire. Quindi, giustamente, non potevo andare a controllare. Reclamiamo la nostra persona. È aumentato di forza un fottio. E di fortuna abbastanza. Dai, lo prendiamo. Vuoi liberare questa persona? Procediamo. Va bene, tempo scaduta. Controlla il risultato degli allenamenti della persona. Annulla furia. Oh, wow. Che abilità incredibile. Torna da me, Tsukiyomi. Io ti reclamo. Vabbè, già che siamo qui, mandiamo qualcun altro. Visto che tanto non è indispensabile, potremmo mandare Thanatos ora. E bruciamo un incenso. Vediamo quale posso usare. Uno di quelli... Beh, non è che abbia molta scelta o molta importanza. Quindi facciamo questo. Va che bello, Thanatos messo in prigione. Che io comunque lo ripeto. Thanatos Piccaro non mi dispiace. Ma io vorrei avere quello normale. Vorrei avere Thanatos normale. Avrai un giorno fortunato. Beh, se mi aumenti la nostra... Eh, però è domenica. Cacchio. Va bene. Andiamo da Chiaia nonostante sia domenica. Perché lei non appare così spesso, a quanto pare. Avremo altre domeniche da usare con Futaba. Quindi andiamo da Chiaia oggi. Ho deciso. Perché ora abbiamo la richiesta questa qui di Oya. Abbiamo questa qui del Neturbino. E questo qua del Cheater. Quindi se riusciamo ad arrivare il prima possibile a quella di Chiaia. Riusciamo a sbloccare subito l'evento che sblocca le fusioni. Le porte rosse molto più spesso. E al prossimo giro del Memento. Quello in cui ci faranno altre richieste. Avremo molte più fusioni. Ottimo. Star Sun, sei proprio sicuro che te la caverai? Ti guardo in viso e ho una strana sensazione. L'aura della morte emette una strana luce. Ti prego, fai attenzione. Bene, cosa ti piacerebbe fare oggi? Allora, prima di tutto facciamo una cosa di sicurezza. Ti chiedo di aumentare la nostra affinità, Chiaia. Perché visto che appari poco spesso, voglio essere più sicuro. Mentre ora facciamo una verifica. Ho molte cose da dirti. Accomodati. Sento di potermi avvicinare. Perfetto, andiamo. Fantastico. Vediamo, per oggi... Per oggi cosa faremo? Sentiamo. Oggi ho molte cose da mostrarti. Guarda, preparazione mentale per lo sport. Oh, e creare da zero un'azienda di successo. Ho anche un libro di segreti per essere una brava ascoltatrice. Scritto da un hostess di un locale di Ajinza. Per scegliere quali libri portare ci ho messo mezza giornata. A casa ne ho molti altri. Ho iniziato a usarli come riferimenti per i consigli da dare ai clienti. Così potrò suggerire delle alternative invece che lasciare che si rassegnino al loro fato. Ti sei data molto da fare, brava. Certo. In fin dei conti, devo capire come consigliare al meglio i clienti sul loro futuro. Comunque, alla fine sono approdata a una nuova filosofia di predizione. La determinazione può cambiare il fato. Ehm, riguardo alle persone a cui ho venduto le pietre sacre, ho iniziato a predire gratis il loro futuro. Vorrei tanto restituirgli i soldi che mi hanno dato, ma... Ma? Beh, ecco... Disturbo? Yo... Yokoda-san? Da quanto tempo, sacerdotessa? Ehm, cosa ci fa qui? Il preside mi ha chiesto di controllare come vanno le cose. E tu chi sei? Ehm, è il mio apprendista. Non l'ho ancora presentato al presidente. Stai dicendo di avere così tanto lavoro da dover assumere un assistente? Sì, e mi è di grande aiuto. Capisco, c'era da aspettarselo da una gente come te sacerdotessa. Ora, devo andare. Ehm, grazie per la visita. Oh, mi spiace che tu abbia assistito. Sei nei guai? No, niente di serio. Comunque, è una faccenda privata, Star Sun. Nulla di chi ti deve preoccuparti. Aspetta, per caso sei... Sei preoccupato per me? Oh, sono colpita, davvero. Quando ci sei tu, la mia fortuna migliora sensibilmente, Star Sun. Ho deciso, per ricambiare, leggerò il tuo futuro quando vorrai. Yeeeh! Che in realtà... Lettura dell'affinità, ecco appunto. Non è che abbiamo guadagnato chissà cosa. Visto che quello che mi serve è arrangotto, stronza. Caspita, è già così tardi. È ora di chiudere. Buona serata, Star Sun. Ho perso una serata con Futaba per questo. Vabbè, dai. Arriverà un'altra domenica, su. Buongiorno. Senpai, hai dormito bene? Sembra piuttosto stanco. Forse non dovrei chiederlo, ma... Va tutto bene? Sto bene, tranquilla. Beh, d'accordo allora. Oh, giusto, il festival scolastico è domani, giusto? Non avevo idea che i preparativi avrebbero richiesto così tanto impegno. Non me l'aspettavo. Ma lavorare insieme per preparare tutto è fantastico. Spero che domani ci divertiremo. Beh, oggi vado ad allenarmi, quindi se permetti io vado. Ciao Yoshizawa. Buona serata. Visto che non ci sentiremo oggi. Hai sentito del nostro ospite di quest'anno? Ah, parli di Akechi, vero? Me l'aspettavo, tutti hanno votato per lui. Non aveva detto però che non avrebbe più fatto eventi? Perché ha accettato di venire? Ci entreranno sicuramente i ladri fantasma. Non era lui quello che diceva che fossero cattivi. È vero, allora sono legati veramente alla nostra scuola. Eh, hai ragione. Forse ci dirà qualcosa sull'indagine. Quest'anno non me lo perdo, la conferenza. Ah, dicono la prima cosa che passa per la loro mente. Sopportiamoli per ora, almeno finché non otteniamo qualche informazione. Che brutte persone che ci sono in giro, eh? Oh, Maruki, ciao! L'altro giorno ho incontrato un amico dell'università. Ci siamo messi a parlare dei vecchi tempi. Quello che abbiamo incontrato l'altra volta, Maruki? Ora che abbiamo qualche anno sulle spalle, certe vecchie storie sembrano troppo assurde per essere vero. Come quella volta che mi sono ubriacato e mi sono dimenticato come mi chiamavo. A volte le persone faticano a ricordare cosa è vero e cosa è esagerato. Sono cose che capitano anche a voi, vero? Ma c'è una spiegazione. È un fenomeno ben preciso. Bene, Starkoon. Mi dica? Psicologicamente parlando, qual è la ragione chiave per cui certi ricordi differiscono dalla realtà? Il bias di memoria. È la risposta più plausibile. Giusto, notevole. È un tipo di bias cognitivo che può comporre o mettere o persino alterare i vostri ricordi. Ah, quello che è successo a Futaba. Nello specifico, il nome del fenomeno di questione è falso ricordo. Come suggerisce il nome, è un caso in cui il nostro cervello può generare ricordi non veri. Anche Yotobi ha fatto un video simile, se non ricordo male. Era quello della Gabibba, se non ricordo male. Oh, è stato bravo. E ne ha parlato anche Yotobi in un video. Yarujanega. Perfetto. La mia conoscenza, cardacaro, com'è bella. La differenza tra i ricordi imprecisi e i fatti può comportare un notevole confusione. Tuttavia, se i desideri nel subconscio si manifestano come ricordi, non credo sia necessariamente un male. Falsi ricordi, eh? Ma per l'individuo è tutto assolutamente reale, no? Non concetto... Che concetto bizzarro. Quindi se io ricordo di aver incontrato un pinguino e ne sono contento, allora questa cosa mi rende contento. Oh, ci sono i tabelloni. Com'è andata? Merda, sono fottuto. Ehi, guarda che roba! Guarda chi è il migliore. Chissà che punteggio ho preso. Sono il primo della classe. Sciagari, sciagari. Ah, pazzesco. Avrai addosso gli occhi di tutti. Eh, lo so, Morgana. Vacca che capelli che c'ho. Maronna, cara maronna. La conoscenza porta fascino, a quanto pare. Grazie a tutti. Grazie.